Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Dal capo sviluppatore di Inside the Limbo, quindi si prospetta un bel viaggio, durerà 4-5 ore da quello che ho visto, e qua mi tocca dire una cosa, quando un gioco indie riceve un'eccessiva attenzione mediatica, sono quegli indie i cui sviluppatori non mi si filano minimamente. Quindi io ho fortunatamente il Game Pass, lo posso giocare da lì, però diciamo che il supporto al canale è minimo per quanto riguarda questi indie che comunque suscitranno abbastanza clamore e vengono citati molto spesso dalla stampa. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un viaggio dove dovremo risolvere enigmi, c'è quel concetto che adesso va tanto nei giochi dei mondi dentro i mondi, quindi cercheremo di risolvere una sorta di mistero cosmico. E noi siamo questa sorta di scarafaggio uomo, insomma questa cosa che esce dal bozzo e cominciamo a muoverci e ad andare in giro. Adesso mi muovo con le frecce direzionali, che è una cosa abbastanza inusuale. Intanto diamo un'occhiata alla risoluzione se è giusta, il limite ok, tastiera su giù, sinistra, destra, perfetto, azione con lo spazio, molto 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 semplice. Lo sto parlando adesso la prima volta con voi, per quanto io abbia già visto qualche scena, però devo dire che il sonoro è molto carino, adesso non so se si sente bene. Anche i riflessi nell'acqua sono molto belli per far vedere quello che alla fine non è visibile nella telecamera. C'è solo altra situazione. È uno di quegli indie dove vi dovete, diciamo, immergere nel mondo, nelle atmosfere, nelle musiche. Cercando di risolvere enigmi, risolvere misteri più grandi di voi, adesso vedete che ho attivato questa cosa, questa piattaforma che apre questa discesa, questa rampa. A me piacciono tantissimo queste animazioni di apertura, di chiusura, di cose che appaiono, scompaiono, diciamo, dal terreno. Perché comunque denota una certa cura, una certa amore, un certo amore da parte dello sviluppatore. Cerchiamo di capire adesso dove dobbiamo andare. Anche giochi come Limbo e Inside erano molto belli perché comunque si facevano sempre cose diverse. In questo caso vedete che sto tirando, ci ho messo due secondi a capirlo, questa sfera per far sollevare questa cosa. Adesso io posso mollarla, vediamo se... ok. Ok, è uscita dalla sabbia, attiviamo questa. Ok. E si va avanti con questa sorta di piattaforma. Ma poi cambia totalmente, si vanno a fare tutto un altro tipo di enigmi. Vediamo se posso attivarlo. Eh, no, non posso. No, già, devo risolverlo da me, questo enigma qui. Cercare di capire come fare, perché io quando vado di là... Ah, posso scendere da qui. Ah, sì, lo attivo da qui, giustamente, e poi me ne vado di qua. Molto bene. Però non è finita, perché qui c'è qualcosa che manca. E di là pure no, credo che io debba andare per forza a questa zona. Non ha senso, perché l'avete già visto, chi di voi ha visto il video non lo guarderà di certo da me, chi ha già visto il gameplay. Se invece voi l'avete visto per la prima volta da me, a parte che benvenuti, se siete nuovi arrivati, tengo premuto, se no non va. Però non ve lo voglio spoilerare ulteriormente. Posso dire che, secondo me, per la maggior parte della gente, 23 euro sono tanti, ma non intendo che non li valga questo gioco, perché con le atmosfere che dà, con la cura che ha dietro, li vale senz'altro. Più che altro, l'obiezione potrebbe essere, sì, però, 4 ore, 5 ore, magari 6 ore, se voglio fare, proprio completare tutto, le varie cose, però, insomma, sono tanti, comunque, 23 euro per questa durata. Sicuramente, invece, verrà apprezzato da chi ama gli indie di questo tipo. Chi ha vissuto quelle esperienze che possono essere Limbo, Inside, Piuttosto che Abzu, Journey e cose del genere. Perché, comunque, gli indie non sono solo questo, ma sono anche questo. Poi, io tendo ad essere più legato agli indie più di tipo gestionale o di simulazione di vita, un po', così, come si dice, fuori di testa. Però, questa è una cosa molto carina, che ho visto anche in un altro video, dove, alla fine, andremo a mettere la biglia dentro un tubo, credo. E hanno tutti, comunque, una sorta di, non dico mistero, però, una sorta di cosa da risolvere che ci spinge ad andare avanti e scoprirne di più. Come per, e continuo a citarvi, Inside c'erano le ombre, insomma, si cercare di capire a che cos'era dovuto lo stato angoscioso del mondo. C'era proprio anche questo emblema dell'uomo sfruttato. Cos'è il genere? Ecco qua. È più di stile astrale, mistico, legato ai mondi, dentro ai mondi, insomma. Io devo cercare di capire adesso cosa fare, perché io ho attivato quella postazione lì, di là, ma devo anche capire a cosa mi serve, perché io ho attivato questa, posso togliere, vedete che si chiude, e secondo me non è la zona iniziale giusta. Infatti io posso andare di là, e posso piazzarla qui, da qualche altra parte, immagino. Vediamo se c'è qualcosa qua che si può fare, no. Anche il sistema di controllo è molto semplice, fare il pad. Vedete che la sfera passa di là. Ah, mi si è aperta la porta! Molto bene. Adesso posso andare qui, e attivare questo. Ah, ok, ok. Questa è una delle scene che avevo visto, sì. Perché metto la palla qui, posso far girare la... Il tubo va di là, lo unisco qui, esce di là. Ok, vediamo un po' se funziona. se funziona questo prototipo qua. Scusate, io vorrei... Ma... Vorrei dargli una spinta, farla entrare qua dentro, ma non si può. Devo farla partire da là in alto, allora. Non qui, allora. Andiamo, sì, perché qua partiamo già dal basso, mi serve invece qualcosa che... Ah, no, di là. Ok, vediamo se... Di qua. Va inserita qui. La pallina va inserita lì, scende. E adesso attivo questo. Ok. Sale di là. Scende di lì. No! Mannaggia! Perché... Veramente... Veramente molto carina questa cosa. E il bello di questi giochi è che non è tutto così. Cioè, voi magari lo vedete giocare e dite, ah, il gioco è così. No! Non è così. È solo una parte, un tipo di gameplay che è così. Perché... Poi il gioco vi mette sempre nelle situazioni più diverse. Cazzarola, dovevo prenderlo di là. Eh, di nuovo. Di nuovo da capo. Mi serve a te. Mi sono adagiato perché ho detto, tanto ho già fatto tutto, no? Quello non bisogna fermarsi di un minuto. Di un secondo. Perché sennò non ce la si fa. Ok. Adesso scendo. Vado di là. Attivo questo. E faccio andare la sfera dall'altra parte. Dove deve andare, effettivamente. Ok. E questo ha risolto il problema perché prima il gioco ci faceva vedere che mettendo la sfera su una di quelle cose lì ci apriva il ponte. In realtà lo scopo poi era un altro. Adesso si va di qua. La mettiamo qui. Qui dovrebbe aprire qualcosa. Vedete che apre questo ma teoricamente andrà messa da entrambe le parti. O forse dovremmo mettere la sfera in un punto preciso. Ok. Vediamo se riusciamo a metterla di qua e capire. Adesso. No? Forse un filino di view. Sì? Forse sì. Geniale. Geniale. E qua andrà messa la sfera alla fine. No? No. No. Ah, devo tenere premuto. ok. Ok. Tutto con la palla. Allora qua aprirà la sfera lì in mezzo sicuro. Ok. E qui la palla ci viene messa nuovamente a disposizione. ma in realtà c'è un posto anche là ma io la metto qui. E... ma tutto questo perché? Mi apre una sorta di mondo. Però qua sicuramente mi darà passaggio dall'altra parte. Sì, io la tolgo però torno lì. Hai capito. Ok. Ho appena sbloccato un obiettivo sul Game Pass. Questo blip insomma. Bisogna premere queste cose. Ma non vorrei se dovessero premere un certo... Eh sì. Eh ma adesso... Ah, eccoli qua. Qua c'è un simbolo che è il simbolino lì del rombetto in mezzo che è quello lì in alto che è questo. Eh però sarebbe da capire dove sono gli altri. Ah, ho preso questo. Ah, ok. Il rombo. Bello! Mamma mia. Carino. Allora, il rombo. Questo. Il pentagono. Pentagono. Poi questo qui e alla fine questo. Bellissimo. Ok, attiviamo questo. Quindi abbiamo attivato questo. Bisognerà farne un altro dall'altra parte? te no. Sì. Ah, mi apre. Ok. Prendo questo. Dobbiamo fare un altro enigma di là. Credo. E no, perché qua non c'è niente. Quindi, tecnicamente, dovremmo andare anche dall'altra parte, ma... Metto qui. Non fa niente. Metto qui. a questo punto. Altro mondo. Altro regalo. Siamo in un altro mondo e andiamo a risolvere anche questo. E questo robottino che mi segue probabilmente sblocca questi. Infatti. Vabbè, ragazzi, questo è Cucun. 22,99€ o se avete il Game Pass è gratuito lo potete giocare anche lì. Fatemi sapere che cosa ne pensate. È geniale. Sul prezzo ne possiamo discutere. Sulla qualità no, perché secondo me è un bel gioco, è fatto bene ed è un bel puzzle da giocare forse col pad su un mega schermo o sulla televisione sdraiati sul divano un po' per rilassarsi un po' per far andare anche la mente. Fatemi sapere, non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate voi. scrivetelo qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo videogameplay. Alla prossima e ciao ciao!